Allora io sono qui per protestare perché è già il secondo anno di fila che mi presento vestito alla Fashion Week E non ti lasciano entrare? No, non mi lasciano mai entrare, non mi lasciano mai entrare Ma il biglietto ce l'hai? Il biglietto non ce l'ho però cosa vuol dire non mi fanno entrare? Anche io quando qualcuno non mi invita a casa comunque entro in casa loro senza che loro mi invitino Ovviamente questo quando loro non sono in casa Ha ragione, ha ragione Sì, sì, ha molta ragione Ha ragione, ha ragione Io non so cosa sia successo alla comunità italiana della Fashion Week Ma vorrei per favore un appello a tutti i grandi brand emergenti Di farmi entrare il prossimo anno alla Fashion Week Vestito come sono, col rispetto e con un van Perché siamo arrivati con una Opel del 2006 che non andava neanche È la sua, è la sua Che non andava neanche Io vorrei venire qua con un van della Mercedes come fanno tutti i v Viva, viva, viva la libertà Viva Dilara! Viva Dilara!